San Giuseppe e il terrore dei demoni. Oggi vedremo questo aspetto e come coloro che lo pregano e ne imitano le virtù possano allontanare l'influenza del diavolo. Buongiorno, mi chiamo Samuele Maniscalco. Benvenuti nel canale, gli angeli sono con noi. Cari amici, è alle porte la festa di San Giuseppe, che è uno dei nostri grandi patroni. Perché? Perché l'obiettivo del nostro apostolato è proprio quello di attirare la presenza e quindi l'azione degli angeli e di allontanare l'influenza del diavolo. Un apostolato che grazie a Dio cresce e a cui, se non l'avete ancora fatto, vi invito a partecipare commentando e condividendo i video, mettendo un mi piace e iscrivendovi al gruppo Apostoli dei Santi Angeli. Trovate il link nel primo commento e anche in descrizione, per sostenere questo sforzo che sta dando frutti bellissimi. E San Giuseppe è certamente uno dei patroni più potenti nella lotta contro il potere infernale, anche nella nostra vita quotidiana. Nelle litanie ufficiali della Chiesa Cattolica gli vengono riconosciuti molti titoli che ne rappresentano le virtù e le dignità. Tra questi titoli anche quello di terrore dei demoni, a significare la grande forza e il totale dominio che, per volere di Dio, questo grande santo è in grado di esercitare su tutti gli spiriti maligni. Padre Donald Calloway, un sacerdote americano, nel suo libro Consacrazione a San Giuseppe, Le meraviglie del nostro padre spirituale, libro su cui ritorneremo in altre puntate perché è un vero tesoro, e che potete facilmente trovare in italiano, padre Calloway cita undici modi in cui San Giuseppe è terrore dei demoni. Oggi ci soffermeremo in modo particolare su uno di essi. Afferma padre Calloway, tra le meraviglie ce ne sono due in particolare che devono essere messe in evidenza nel nostro tempo, la paternità di San Giuseppe e la sua purezza. Queste meraviglie di San Giuseppe devono essere evidenziate perché tutti gli uomini, laici e chierici, devono rendersi conto del potere che la paternità e la purezza hanno sulle forze delle tenebre. Osservate bene, la paternità e la purezza, due virtù da imitare. Ogni paternità, prosegue padre Calloway, è una minaccia per Satana. Per secoli il diavolo si è rallegrato del fatto che pochissimi cristiani pregassero San Giuseppe, per la sua intercessione paterna. Oggi Dio vuole che la paternità di San Giuseppe sia riconosciuta e imitata nel mondo. Questo terrorizza Satana. Se i uomini imiteranno San Giuseppe, il regno di Satana sarà distrutto. Incredibile quello che dice questo sacerdote americano, eppure bisogna constatare che ancora oggi nel mondo non c'è abbastanza devozione al padre reputativo di nostro Signore. Naturalmente, riprendiamo la lettura, Satana odia anche la maternità, in particolare disprezza e teme la Vergine Maria. Le donne sono portatrici di vita e il diavolo odia la vita. Satana odia la paternità per il potere intrinseco che ha, la cui origine è Dio, e che in San San Giuseppe trova il suo modello terreno più perfetto. Ogni paternità ha il potere di combattere il male. Lucifero teme la paternità di San Giuseppe più di qualsiasi altra paternità di una creatura, perché il diavolo sa che non c'è creatura che partecipi alla paternità di Dio più di San Giuseppe. Il diavolo è furioso perché Dio si è umiliato diventando uomo e sottopettendosi al quarto comandamento, onorerai tuo padre e tua madre. E qui vediamo l'importanza di questo comandamento della legge di Dio, onorare il padre e la madre. E noi, onoriamo debitamente i nostri genitori? Dio ci ha infatti messi sotto la loro tutela. E anche se mi odiassero, perché magari mi sono convertito interamente a Gesù, non dimenticate quel passo del Vangelo in cui il Signore dice non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, non sono venuto a portare pace ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Dicevamo, anche se per qualche ragione i nostri genitori dovessero odiarci, in tutta la misura del possibile, in tutto quello che è legittimo, noi dovremmo sempre rendere loro onore. Ma ritorniamo a San Giuseppe. Assumendo la natura umana, la seconda persona della Santissima Trinità ha scelto di sottomettersi, obbedire e onorare i mortali. Il fatto che il Re del Re e Signore dei Signori abbia obbedito al quarto comandamento, sottomettendosi all'autorità di San Giuseppe sulla terra, è incomprensibile per Satana. Dio si è abbassato per obbedire e servire creature fatte di polvere. L'obbedienza filiale di Gesù a San Giuseppe si è scontrata con il disprezzo del diavolo. La paternità di San Giuseppe ha potere e il diavolo odia che Gesù e Maria abbiano obbedito alle direttive d'amore di San Giuseppe. Ora in cielo il potere di intercessioni di San Giuseppe rappresenta una seria minaccia per gli inganni del diavolo, e lui lo sa. Il Padre Eterno condivide con San Giuseppe l'autorità che ha sul Verbo incarnato, così come Dio condivide con Adamo la sua autorità sulle creature. Vedete che cosa incredibile. Il fatto di essere madre, il fatto di essere padre all'interno della legge di Dio, facendo ciò che si deve, questo Satana lo odia. Oggi vediamo l'attacco di Satana alla famiglia e noi abbiamo appena letto che la paternità è un'immagine della paternità divina, è un'immagine di come Dio è padre. Capite allora perché uno degli obiettivi del demonio è quello di fomentare qualsiasi ribellione contro l'autorità paterna, in generale contro l'autorità dei genitori. Pensiamo ad esempio a uno degli slogan più famosi del 68, vietato o vietare. Chi è che può vietare qualcosa? Solo chi ha autorità. E qual è qui sulla terra la prima autorità con cui l'uomo si rapporta? È quella dei genitori, è quella paterna. Certo, possono esistere anche autorità illegittime alle quali posso ribellarmi o autorità legittime che però agiscono male. Ma anche in quest'ultimo caso il problema non risiede nell'autorità in sé, ma nell'uso che ne fa concretamente la persona che ne è investita. Continua padre Calloway nella sua riflessione. Nella casa di Nazareth le direttive di San Giuseppe erano simili agli ordini dei genitori. In cielo Gesù continua ad ascoltare il suo padre virginale perché i desideri di San Giuseppe sono sempre in accordo con la santissima volontà di Dio. Satana teme che San Giuseppe continua a esercitare la sua influenza paterna in cielo attraverso la sua straordinaria intercessione presso il figlio di Dio. Il diavolo odia Dio padre e ogni riflesso della sua paternità. Questo odio incita il diavolo a distruggere la paternità in tutti gli uomini, laici e sacerdoti. Senza dubbio il diavolo ha una grande paura dei ferventi pontefici e dei santi sacerdoti e del sangue dei martiri, ma ha anche molta paura dei laici che modellano la loro paternità su San Giuseppe. Ah ma io sono in uno stato di vita tale da non poter più imitare lo sposo castissimo della Vergine Maria. Ti dico che puoi, forse non in tutti gli aspetti perché lo stato di vita di ogni persona è diverso, ma le virtù di San Giuseppe puoi imitarle, però non senza la grazia di Dio e per questo dobbiamo chiedere al nostro angelo custode di aiutarci a ogni passo. L'ultima cosa che il diavolo desidera, dice sempre padre Calloway, è che gli uomini siano manifestazioni di San Giuseppe, aumentando la presenza del marito virginale nel mondo. Se un uomo si permette di essere una manifestazione di San Giuseppe, imitando le sue virtù, Satana perde il suo potere nei suoi attacchi contro la famiglia, la Chiesa domestica, o contro il corpo mistico di Cristo, la Chiesa. Quando i laici, i sacerdoti e vescovi conformeranno la loro autorità paterna a quella di San Giuseppe, la Chiesa sperimenterà grandi vittorie contro il male. La paternità amorevole e misericordiosa di San Giuseppe serve da modello per tutti gli uomini, insegnando loro l'uso corretto dell'autorità paterna e la cooperazione con Gesù e Maria nella salvezza del mondo. Tutto questo non è fantastico? Non è sublime conoscere questi aspetti della nostra fede? Concludo con una citazione di Sant'Alfonso Maria degli Iguori. Dice, San Giuseppe non solo era destinato ad essere un sollievo per la madre di Dio nelle tante tribolazioni sulla terra, e non solo era il sostegno di Gesù Cristo, ma era anche destinato a cooperare in qualche modo alla redenzione del mondo. San Giuseppe ha collaborato alla redenzione del mondo. Eccezionale. Ecco quindi il nostro omaggio a San Giuseppe. Come sempre, vi ricordo che potete scrivermi nei commenti le vostre impressioni, e non dimenticate che potete lasciare le vostre intenzioni di messa cliccando sul primo link in descrizione, e che, ripeto, se desiderate supportare questo apostolato con un aiuto materiale, per chi può e secondo le proprie disponibilità, cliccate sul link che trovate nel primo commento o sempre in descrizione per far parte del gruppo Apostoli dei Santi Angeli. A tutti, ovviamente, chiedo preghiere, in special modo per quelle persone che in questi giorni hanno scritto nei commenti o mi hanno inviato un'email chiedendo preghiere perché attaccate dal maligno. Da parte mia non mi rimane che darvi appuntamento a martedì. Che Dio vi benedica.